grazie benvenuti ragazzi siamo qua nel compattimento ehm di south park sono qua per far vedere l'umiliazione di questo stronzone di merda poi che l'ho ucciso con la sua stessa arma che è l'armalena e l'abbiamo ucciso capo della sicurezza lena ok raga livello 6 abilità sbloccata sono overpower vedi quante leggi ci stavano da qualche parte io ho detto ho detto eh già maestria noi non siamo passati qua però codice 776 mi ricordo raga quindi di alien cioè non tanto il film il gioco il trailer coppia del gioco e avevo intenzione di proprio fare il mio primo let's play come invece non ho fatti altri millenila prima di quello comunque ehm magari se mi ricordo vi lascerò il link in descrizione del trailer oppure che devo fare no no ancora qua ancora qua che cazzo fa abiterà nella nave ma qua chi è sto tipo ecco recupero il cristallo della potenza entra nella cabina di pilotaggio aliena e allora quindi cioè quando mi ricordo ho visto il trailer che a me a lei mi piace un bot poi ho visto il trailer del gioco che era una cosa spettacolare ti ho inviato un nuovo messaggio ora non mi va di leggerlo fongaliena bello carino molto ah giusto no e ho messo evidentemente quel cristallo faceva qualcosa perché sennò non lo dovevo metterla no ci sorvegliano oh aspetta aspettate ho visto una cosa che cazzo è che cazzo è no ho già trovato un altro non ricordo ci comincia una fattoria eh però what the fuck raga io sono disperato sinceramente ho tutti sticare nemmeno nemmeno ho messo il coso alla potente no cioè andiamo avanti fino alla morte perchè mi sta caricando la musica se non ci lasciamoci perchè al prossimo c'è ogni volta ai duelli ci boom ci blocchiamo e comunque sto facendo questi episodi che alcuni mi scrivono che sono corti no e ma vi dico qual è il punto perchè eh come prima cosa su south park cioè se mi metto a giocare mi lascio molto andare quindi eh non faccio caso a quanto tempo passa la registrazione quindi poi oh oh vabbè dammi una mano ma va fa culo ok mo lo sappiamo bello questo è sempre il bonus di difesa fanno mille cose e eh anche perchè appunto cioè non mi rendo conto di quanto dura la registrazione poi in pratica eh c'ho diciamo un limite tra virgolette che appunto più di mezz'ora di seguito non posso registrare quindi se non mi rendo conto eh poi magari sforo appunto questi 29 minuti e la registrazione si interrompe quindi in primis è questo il motivo è è questo il motivo per cui faccio appunto sto prendo questi video su south park fortissimo infatti sono morto come ho detto prima e ma anche perchè comunque se uno ha poco tempo no cioè non io che sto registrando ma chi lo va a vedere no alla fine la maggior parte degli episodi erano tutti più o meno 12 minuti quindi mo stiamo là mi sembra gli ultimi 3-4-8 minuti quindi vabbè 4 minuti in meno però e poi c'è stato anche uno tipo da 27 minuti cose assurde quindi diciamo per regolarmi un po' meglio e anche per appunto beh farveli vedere appunto a voi più una cosa più frequentemente diciamo perchè nel senso prima magari vi portavo un video non so due video alla settimana ma invece tutto south park vi sto portando quindi ehm il fatto di farli così corti non solo favorisce a me perchè appunto ne posso fare di più ma anche voi perchè se avete potuto poco tempo appunto lo potete vedere facilmente dato che dura molto poco niente quindi questo video è giunto termine spero che vi sia piaciuto vi salto a lasciare un mi piace un commento passare dai sociali e magari ci vediamo un po' sul video ragazzi vi dovete commentare intanto non so questo video quando uscirà tra mille secoli comunque ancora dovete commentarvi ehm le spalle del chart 3 o di max pain 3 quale preferite scrivete nei commenti andare sulla pagina facebook lasciato un mi piace perchè è lucky comunque vi aggiorno continuamente anche nei tre giorni di qualche non lo so per me cioè tre giorni sono ieri l'altro ieri e l'altro ieri ancora che non pubblicavo video però vabbè poi dipende quando esce sto video comunque non vi preoccupate cioè per qualsiasi cosa guardate sulla pagina facebook perchè anche i messaggi di youtube vanno bene se volete iscrivervi anche la o anche un commento però facebook è più diciamo gestibile quindi niente ragazzi ci vediamo un prossimo video bella